Per analizzare gli scenari susseguenti a questa crisi di governo, Roberto D'Antonio ha in collegamento un ospite. Sì Beatrice, oggi è con noi il direttore editoriale di Economy, Alfonso Luffo, che ci aiuterà a muoverci nelle nebbie di questa crisi. Una nebbia che in realtà si è dissolta, Alfonso, perché tanto tono che piove, ora bisogna capire se è una leggera pioggiarellina primaverile oppure un diluvio. In politica una diluvia con grandine, che cosa può succedere? Secondo me comunque va ad andare meglio, perché una scossa ci voleva, effettivamente questo governo era un po' impantanato, le forze economiche chiedevano un cambio di passo, ma anche l'Europa chiedeva un cambio di passo, ma anche molti commentatori chiedevano un cambio di passo. Come dire, Renzi è stato un po' il catalizzatore di tutte queste insoddisfazioni e alla fine si è arrivato a dove forse si poteva anche non arrivare se si fosse provveduto. Ma è chiaro che se tu non provvedi, alla fine qualcosa succede sempre a farti cambiare le cose. Il Conte a terra è una soluzione, ma quali ulteriori scenari si possono aprire? Certo, tutto in mano a Mattarella ovviamente. Se Mattarella dovesse accorgersi che Conte non ha una maggioranza solida, non fatta di scappati di case, tra virgolette come oggi si dice, per definire i singoli senatori da una parte e i deputati dall'altra, ma organizzati in un gruppo, se non ci fosse questa prospettiva, è chiaro che Conte potrebbe dare l'incarico, addirittura un pre-incarico a qualcun altro, magari a un Cottarelli che è già stato copitato una volta per possibile presidente del Consiglio per qualche ora, ma è chiaro che non è detto che il Conte ter sia la soluzione più probabile, anzi, Mattarella in questo momento starà valutando che cosa sia meglio per il Paese. Siamo aperti a tutte quante le possibilità, perché la crisi potrebbe anche sfuggire di mano e si va alle elezioni. Quindi c'è anche la possibilità che Conte sia assalito Papa al Curinale e Nesca a Cardinale? Assolutamente, ma quello non è un posto proprietario, non è di proprietà di Conte o proprietà di Tizio o proprietà di Caio. È chiaro che oggi in questo momento il bene nazionale è al di sopra di tutto, bisogna costruire una squadra che sia in grado di rispondere alle sollecitazioni dell'Europa, che sono quelle che noi vogliamo. Certo, la crisi capita in un momento cruciale per il Paese, insomma tra metà febbraio ed aprile avevamo questa finestra per il recovery plan. Ecco, rischia di saltare questo appuntamento che sembra fondamentale per la ripartenza? Meglio presentare più tardi un buon piano che correre a presentare un piano che non funziona. Ma l'Europa sarebbe d'accordo ad una richiesta di rinvio? L'Europa potrebbe essere d'accordo, se tu glielo giustifichi bene e dici guardi arriviamo un po' più tardi, se c'è queste interlocuzioni che dicono esserci, se c'è questo buon rapporto con l'Europa e gli organismi dell'Europa proposti a questo, si concorda, dice abbiamo una crisi di governo, la vedete, arriviamo un po' più tardi però arriviamo bene. Tra l'altro adesso c'è anche lo strumento di supporto tecnico che è stato messo a disposizione dei governi per poter far bene. Si attiva questo strumento e si lavora insieme, meglio due mesi, tre mesi più tardi, bene piuttosto che subito male. Questo probabilmente non dispiacerebbe a Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che insomma non ha mai avuto parole dolci nel confronto del governo e che ultimamente dopo l'incontro ha avuto, appunto con l'ultima riunione con il governo Contebis, ha definito piano decisamente incompleto. Ma vediamo insieme un attimo un servizio in merito. Confindustria, prima ancora di entrare nel merito del piano di ripresa e resilienza, al primo incontro con il governo ha posto quattro questioni prioritarie e inerenti il metodo, a ispirarle esclusivamente l'interesse nazionale affinché il PNRR, un'occasione storica e ripetibile per il paese, raggiunga la massima efficacia, spiega via dell'astronomia con una nota. L'Associazione degli Industriali si è quindi soffermata su quattro nodi, la mancata conformità con le linee guida indicate dall'Unione Europea, il fatto che in assenza di un quadro generale di priorità, compatibilità e obiettivi, ogni valutazione rischia di ridursi a una mera somma di richieste, in nome dei diversi interessi economici e sociali. Una riflessione sui temi che hanno un grande impatto sulla vita delle imprese e in particolare riforma degli ammortizzatori sociali e infrastrutture. Poi la governance necessaria per una puntuale ed efficiente realizzazione del piano ad oggi non ancora delineata e che per Confindustria dovrebbe prevedere modalità di confronto strutturato e continuativo con le parti sociali e un loro coinvolgimento lungo tutto il processo di esecuzione dei progetti, tra le richieste al governo quella di procedere a un affinamento del piano per comprenderne gli effettivi impatti sul PIL. Insomma Alfonso, un'analisi cruda e dura da parte di Viale dell'Astronomia. Confindustria guarda i provvedimenti e non guarda i governi. Se il provvedimento non è ritenuto sufficiente a garantire una buona performance del Paese, lo si dice. Non bisogna offendersi. È giusto, è il gioco delle parti. Confindustria è una grande organizzazione imprenditoriale, la più grande del Paese ha anche una grande responsabilità e deve dire le cose che ritiene giuste ed è giusto dire che questo recovery è insufficiente. Quello diciamo che noi conosciamo. Ecco, un'ultima cosa Alfonso. Ora si punta a nuova maggioranza, ovviamente allargata. Non c'è il rischio di perdere quella visione globale che forse Conte voleva proprio dare istituendo quella famosa cabina di regia? Cioè, nuovi commensali significa probabilmente andare verso un recovery plan che può diventare uno spezzatino. È chiaro, quello che tu dici è un rischio serio che si corre. Per questo dobbiamo connetterci in maniera seria con l'Europa, utilizzare lo strumento di supporto tecnico, seguire le indicazioni con attenzione e tenere in testa il bene del Paese che è quello di tornare a crescere. Cioè, noi dobbiamo tornare a crescere. Questo Paese deve guardare alla sua competitività, deve guardare alla sua capacità di fare investimenti, di sviluppare lavoro. Questo deve essere l'obiettivo. Tutto il resto è contorno.